bada a chi è? a chi è? a chi è? a chi è bai? a bai a la mamma? a bai a la mamma? psst, psst, cosa fai? ci siamo annoiati? non sai cosa fare? non sai cosa fare? ma ci sono tutti giochini? no, non è voglia di giocare con i giochini? eh? ma ci sono tutti i lorzettini? ci sono le palline? ne vuoi? eh Vicky? su, vai a giocare con tutte le tue cosine, dai! dai che la mamma c'ha da fare!